tentativo di video numero 2 apportate pazienza se non si vede tutto perfettamente a fuoco ma ho le luci della stanza e non sono a casa con tutte le le luci fighe comunque video riorganizza tutti i miei bracciali pandora perché dopo tutti i regali acquisti tra natale e compleanno io sto messa in questa situazione avevo iniziato a fare il video prima e poi ho smesso perché appunto si vedeva male però trovo che potrebbe essere interessante tutto ciò per voi per me e quindi niente ho smontato come vedete ho smontato un sacco di bracciali e in questo momento sono in piena ansia sono in piena ansia perché devo farci stare tutto in maniera perfetta e il perfetto mi mette ansia ho smontato il mio bracciale porta fortuna parte delle cose sono qua parte delle cose le ho messe qua tipo questo l'ho messo qua ma non sono sicura di metterlo qua ho recuperato l'aereo da questo che era tema viaggio 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 ma un viaggio speciale siccome avevo già questo di aereo ho quindi recuperato questo qua insieme ho messo anche la mia il mio zanetto nuovo la valigia il pulmino e il mappamondo e questo qua era il bracciale appunto porta fortuna che ha un piccolo difetto qua nel senso che si è un pochino allargata la maglia perché come vi dicevo negli altri video se mi seguite sapete che cosa è successo con il charm a forma di ancora praticamente avevo sopra questo bracciale il charm a forma di ancora e questo charm si impiglia dappertutto quindi davo dei grandi strattoni al bracciale perché restavo impigliata e in questo risultato cioè questo è il risultato questo la maglia non si è allargata vedete quasi vede meglio in questo punto niente ovviamente la garanzia è andata e lasciamo perdere però comunque questo qua lo volevo far diventare il bracciale un pochino viaggio viaggio intenso quello la era più un viaggio speciale poi ho un bitono vuoto ho aperto il bracciale quello a tema bosco e ho già messo qua da inserire non so bene dove come quando perché ho messo qua l'ognomo che era nel bracciale portafortuna questo quadrifoglio perché è verde ed è riprende il pancino dell'ognomo che anche lui appunto ha sopra il quadrifoglio e sempre per avere qualcosa in argento li volevo mettere anche il fantasmino bosco fatato incantato stregato eccetera quindi poteva starci bene e ho affiancato qua questo charm con i fiori perché era sul bracciale bitono ma nel bracciale bitono e questo è l'unico che ho concluso smontando l'altro lo avevo in questo punto qua questo qua con i fiori aiuto questo era qui ma appunto gli ho voluto inserire questo charm bitono che è appunto oro e argento che avevo sul bracciale portafortuna con la scritta love perché insomma è la morte sua deve starci qua come avete notato ho tolto i vetri di elf bits ma ho rimesso ancora questo qua che era bitono con i fiori e appunto sostituito questo perché quelli la li voglio mettere sul troll mentre questo ci sta bene così insomma era era la morte sua questo è è proprio oro e argento e così deve rimanere secondo me quindi questo è l'unico che ho concluso ok ragazzi tornate alla base riesco a farveli vedere più nel dettaglio quindi insieme ai ragionamenti video dei ragionamenti vi metto questi piccoli spezzoni dove vi faccio vedere bene i charm e come li ho modificati questo appunto è quello bitono come vedete qua si vede decisamente meglio il charm con la scritta love in oro e appunto il charm quello con i fiorellini e le margherite in oro quindi tolto gli elf bits e sostituito con questi qua e ho tolto anche il fiore quello con la madre perla quindi questo fatto ok sono arrivata a lui e voglio mantenere i colori rosso ciliegia e bianco quindi li volevo andare inserire questa murrina perché ha gli stessi colori di quella la almeno i cuori non sono rosa rosa ma sono più un rosso ciliegia come vedete sono molto simili a fiori che ci sono qua quindi penso di andare a metterla da qualche parte devo spostarla devo recuperare questi questo qua e questo questo e questo che sono rosa andare a inserire la mia cucinella che ha i colori appunto rosso ciliegia e non so bene dall'altra parte probabilmente mi girano in mano questi due charm uno è bianco con i fiori che potrebbe essere un po' tipo i fiori ghiacciati o comunque riprende anche il bianco di quest'altra murrina e l'altro è questo che ha gli zirconi bianchi all'interno sempre a fiori per ora sono qui ma ho ancora tutti questi da poter utilizzare e non so ancora bene quale oh che disperazione continuo ok alla fine ho fatto così ho messo la murrina qua e quella con i doppi cuori da quest'altra parte ho tenuto i miei cuori con i dettagli rosa mentre ho messo qua la cucinella rossa che si alterna a questo e ho recuperato i fiori quelli che vi avevo fatto vedere prima penso di andarle ad inserire in questo a tema bosco vado a montarlo vediamo come risulta eccoci qua allora alla fine questo è diventato così quindi ho tenuto la sua catena la sua chiusura non ho tolto questi due con i dettagli rosa perché comunque un pochino riprendono anche le murrine e comunque ci stavano bene quindi non l'ho volute togliere spostare troppo ho però messo qua appunto la cucinella come vi dicevo opposta a questo che è il gioiello vintage se non sbaglio e poi ho lasciato esattamente questi due così com'erano ho messo qua appunto la murrina opposta a questo vedo che ci sta benissimo con questo rosso rosa ciliegia rosso ciliegia nei due clip questo è rimasto tutto esattamente com'era quindi sono molto 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 soddisfatta di questo bracciale vi faccio vedere più nel dettaglio i colori che come sempre in video rendono un pochino meno però vabbè ci tenevo a farvi vedere i colori della cucinella che anche lei è fatta con questi zirconi pietre cristalli rosserubino quindi devo dire che questo mi piace un sacco era arrivata qua ho tolto tra questo e questo poi continuava così questo bracciale c'era appunto l'aereo questo e gli ho voluto mettere magari una prova il l'acchiappasugni il problema dell'acchiappasugni è che ha questi pendenti che di qua non ho perché ho il gatto sul puff sul cuscino e quindi è un cavolo di casino mi sono bloccata qua perché devo ricercare un modo per infilare qua il tutto e concludere chiudere e metterlo da parte quindi adesso ci lavoro e poi vi faccio vedere come l'ho realizzato quello blu è diventato così un tema viaggio speciale è diventato in questo modo quindi ho come vi ho detto inserito il l'acchiappasugni da questa parte e per aggiungere un pendaglio e avere appunto i pendagli un po bilanciati nella maniera giusta ho messo questo cornino blu che era appunto sul bracciale porta fortuna in questo modo le due pietre azzurre la parte in argento con il pendaglietto e poi via via tutto come era prima non mi piace tanto questa cosa qua nel senso che non ho spazio per svitare totalmente la catena di sicurezza dalle filettature vedete da questa parte proprio non ho spazio quindi va andrò ad inserire le ho già presi li sto aspettando dagli express degli stopper in modo tale che non ho il problema che magari mi si sfila la catena di sicurezza totalmente finisce i giri se si apre il bracciale e perde il bracciale quindi penso che andrò ad inserire almeno uno stopper qua perché è la parte dove si apre vedete non riesco a sfilarlo tutto perché se lo sfilo tutto poi non riesco più a chiuderlo diventa decisamente troppo rigido e non mi piace per niente questa cosa quindi un mezzo giro lo chiudo bene e qua probabilmente ci vado a mettere il mio stopper però questo qua è fatto non mi piace riempirli tantissimo per questo motivo però ho solo questo questo modo per bilanciarlo al meglio primo bracciale sì perché ne risentirà anche lui di tutto ciò e avevo pensato di mettere due pendagli due dangle il primo questo qua questo polino e uccellino qua anche perché i dettagli rossi riprendono anche qua in questo bracciale e da questa parte mettere questo quadrifoglio perché avrei fatto il contrario avendo già questa qua abbastanza grande e sempre tonda l'avrei messa da questa parte ma non ho spazio per infilare questo anellino che è decisamente più grande rispetto a questo che è più sottile e quindi questi andranno ok cambiamenti in corso d'opera ho messo qua sempre braccialetto termobosco questo qua tondo che si alternerà questo quindi come forma ci siamo mentre qui ho spostato la scarpina da qui l'ho messa qui e ho messo il quadrifoglio in questo punto in modo tale che così ho questo abbastanza grande alternato a questo e poi un ho messo qua il cornino porta fortuna in questo modo sono riuscita appunto a fare l'incastro perché questi due hanno più o meno lo stesso ingombro e così do un tocco di rosso anche da questa parte perché appunto era solo di qua quindi questo è il primo bracciale modificato il primo bracciale vi avevo lasciato in questo modo cioè vi avevo lasciato che dovevo montarlo e l'ho effettivamente montato però adesso andando a montare il video e rivedendolo mi è venuto un'illuminazione devo dire che mettere il dangle quello con la medaglietta opposto a questo non è una brutta idea però non voglio fare questo non tanto perché non ci sta bene ma perché mi piace il messaggio che ha questo questo charm che è always by your side e secondo me ha decisamente molto più significato nel primo bracciale quindi in questo e volevo appunto andare a fare delle sostituzioni quindi voglio andare a togliere il mio quadrifoglio e a togliere il cornino perché sicuramente vado a mettere questo qua al posto del quadrifoglio per opporlo a questo che è più largo quindi alla mia tavolozza e non so bene appunto se lasciare qua il cornino o sostituirlo con altro al suo posto su questo voglio proprio andare a mettere il quadrifoglio quello verde che appunto vi avevo fatto vedere perché appunto anche l'ognomino ha in mano il quadrifoglio quindi al posto di questo il quadrifoglio verde e questo qua forse non lo so se metterlo qua e tenere il cornino rosso oppure trovare qualcos'altro vado intanto a smontarlo e trovo una quadra ok allora la composizione migliore è questa però come vedete ho sempre il problema del troppo pieno che non mi fa né svitare tutta la catena di sicurezza e quindi diventa eccessivamente rigido e soprattutto non voglio andare a mettere anche qua uno stopper qua davanti ma non voglio farlo perché questo charme il cornino porta fortuna purtroppo mi urta e c'è una cosa che mi ricorda una roba che non mi piace piuttosto che tenerlo soprattutto su questo bracciale preferisco toglierlo in modo tale che così ho anche ulteriore spazio per mettere la catena lo so che lo sbilancio totalmente perché appunto se vado a togliere questo non ho niente da questa parte che bilancia ce ne faremo una ragione avevo pensato anche alla mano di Fatima però anche questa non lo so ragazzi questi charm iniziano a pesarmi sul serio non lo so quindi questi charm mi urtano e non riesco più a vederli o almeno li vedo in date situazioni mentre altri mi ricordano proprio delle cose che non voglio più ricordare o almeno non voglio legarle a questo bracciale che è troppo importante e quindi preferisco proprio totalmente sbilanciarlo quindi questo è la teoria come dovrebbe essere ma la realtà è che io ora tolgo questo e troveremo qualcos'altro uscirà qualche altro pendente decente con i saldi vi avevo detto che volevo un'altra clip di queste quelle rettangolari per togliere questo qua e sostituire con questa a forma di cuore perché così anche in questo caso recupero un micro spazio che mi permette appunto di non avere tutta la rigidità in questo punto quindi un pochino più di mobilità per i charm vado a toglierlo ok l'ho messo qua nella parte centrale tra i quattro charm per far sembrare meno che manca qualcosa o comunque così per bilanciarlo un pochino meglio cercherò sicuramente un altro pendente che mi rappresenta perché questo qua è proprio il bracciale mio personale il primo che ho fatto e ne sono davvero davvero tanto legata e mi dispiace proprio avere un charm che mi ricorda qualcosa di brutto proprio brutto quindi non voglio non lo voglio lo so solo un cornetto porta fortuna ma ok passiamo oltre bracciale tema bosco è diventato così questo mi sta piacendo tanto penso di averlo anche bilanciato in maniera più che perfetta per ora ho ancora un po' di spazio consiglio spassionato non prendete non prendete queste catene di sicurezza ve l'ho già detto 300 volte ma ve lo ridico perché magari siete finiti su questo video e non avete visto il resto quindi catene di sicurezza così sottili no perché si svitano da sole quindi è molto molto facile che se si apre il bracciale perdete il bracciale comunque e ho messo una clip questa è quella con il silicone all'interno che avevo per fare la sicurezza della sicurezza ed è una cosa totalmente idiota e assurda dover fare una cosa del genere però facciamolo perché non voglio perdere il bracciale come è diventato questo che lo sto adorando mi sta piacendo un sacco questo bracciale allora ho messo i due charm con i fiori che ho recuperato dagli altri quindi quello con la madre perla e quello con i fiori con gli zirconi all'interno le due murrine i due charm pendenti rose quindi la ghianda e il fungo da questa parte l'open work con la libellula e da questa l'open work con le pietre verdi l'uccellino in oro e in argento bellissimi con i rami poi ho messo il mio ramettino con gli occhi verdi non azzurri gli occhi verdi e da questa parte ho messo il fantasmino che è un grande largo quanto lui bello perfetto poi i due pendentini quindi il quadrifoglio verde perché appunto è verde colorato ci sta bene e la mia volpina poi l'ognomino con il suo quadrifoglietto e nino il porcospino pino per me poi ancora ho messo da questa parte la lumachina e l'uccellino e poi nella parte centrale questi due bellissimi questo di elf beads con i fiori e il draghettino pendente questo è bilanciato a bomba cioè proprio bello 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 c'è ancora appunto due spazi per poter mettere due charm e magari mettere qualche altri due non di più di due pendenti quindi direi che ci siamo questo mi soddisfa e siamo a quattro vi faccio vedere anche come ho realizzato questo perché ovviamente ho smontato rimontato quindi ho fatto mi sono ritrovata un nuovo bracciale nuovo bracciale perché se avete seguito ho comprato Bruno sul cavalladondolo gli animali che suonano dove sono la giostrina dov'è la tazza di cioccolato dov'è e il topino dov'è sono tutti qua sono tutti qua ho fatto un piccolo cambio sul bracciale natalizio perché ho tolto da un altro bracciale mamma mia ho tolto l'orsetto e l'ho messo qua l'orsetto del polo nord al posto del carosello perché era troppo bello da mettere lì sul natalizio lo voglio portare sempre quindi nuovo bracciale è diventato così e ve lo faccio vedere nel dettaglio allora ho messo il topolino nella tazza seguito da questi doppi cuori io e me che era nel bracciale porta fortuna poi ho messo la mia fettina di torta poi ancora la murrina questa qua leopardata la clip a forma di daglia e il primo orsettino che suona poi avevo questi charm qua presi con la fine della tessera non sapevo dove metterli e direi che qua possono andarci bene quindi questo e il carosello seguito ancora da Bruno che suona e insieme ho messo anche la tazza di cioccolato perché praticamente ha gli stessi colori e non volevo mettere l'orsetto che prende la cioccolata che è esattamente uguale dopo ve lo faccio vedere con la tazza di cioccolata altrimenti è una ripetizione meglio dividere i bracciali ancora questo qua preso anche lui con la fine della tessera e questo del dinosauro che suona clip con le primule rosa questo qua di elf beats la tazza di tè che con la fetta di torta ok quest'altro doppi cuori sempre del bracciale porta fortuna e il cavallo ad ondolo Bruno sul cavallo ad ondolo quindi ve lo faccio vedere bilanciato perfetto devo dire che qua magari ci potrebbe stare qualche altro pendentino non lo so vedremo perché c'è ancora un pochino di spazio che mi permette appunto di inserire qualcosina quindi work in progress per ora così mi soddisfa molto e niente mi sono ritrovata un nuovo bracciale composto perfetto quindi topino e cavallo ad ondolo i due cuori doppi fetta di torta tazza di tè due murrine le clip gli animali che suonano i cuori open work la giostrina la tazza di cioccolato e Bruno l'unicorno direi che qua sono a cavallo non a cavallo di più e il bracciale a tema viaggio come sarà diventato per ora è fatto in questo modo quindi vediamo un pochino poi magari vedrò anche un po' come modificarlo però per ora è fatto così so che queste sono tanto tanto appariscenti per il bracciale a tema viaggio queste due sfere piene di zirconi con i cuoricini devo ancora capire bene come modificarlo sicuramente se ci saranno degli spostamenti questi qua saranno i primi che vanno perché hanno bisogno di uno spazio un pochino più più importante secondo me comunque mongolfiera e da questa parte ho messo l'orsetto con la tazza di cioccolato perché mio marito mi ha detto dopo che fai un viaggio una bella tazza di cioccolato la trovi ovunque quindi vabbè io l'ho messo qua più che altro perché il vestitino si abbina con il disegno della mongolfiera a zig zag vedete e i colori si abbinano vediamo anche qua l'orsetto se starà qui o se lo sposterò da qualche altra parte poi ho messo le due murrine quella che mi fa disperare questa con questa qui azzurrina che era sempre nel bracciale portafortuna ma essendo dello stesso colore potrebbero anche starci bene queste sono invece le clip quelle che volevo fare tutti i vari spostamenti quindi vediamo un po' che cosa andrà in saldo non so se resteranno queste spero tanto di no perché probabilmente vado a spostare fare brigare però per ora sono queste poi ho messo lo zainetto il pulmino la valigia e l'aereo e in mezzo il mio fantastico mappamundo quindi per ora questo è così e l'ho messo così appunto come vi ho detto per bilanciare mi rendo conto che è molto work in progress quindi ci devo un po' lavorare capire un po' meglio come farlo e vediamo un po' anche che cosa uscirà con i saldi però per ora la mia collezione aggiornata è così io spero che questo video vi sia piaciuto è diventato lunghissimo e l'ho fatto in più tempi come avete capito perché è diventato lunghissimo e niente vediamo un po' come evolveranno ancora con i saldi e ciao a tutti al prossimo video ciao